Salve a tutti ragazzi e benvenuti di ricevere questo nuovo video di Viuotant bene andiamo, siamo davanti alla fortezza dell'Ute e vediamo un po' che succede e non gli spaccheremo il culo hanno posizionato un assaltorre vicino al forte dice che per entrare non serve bussare ah immagino ok, dobbiamo andare di qua adesso ci andiamo di volata proprio di volata vediamo un po' come fare questa cresta quella di quelle principale vediamo un po' ma le fanno sempre tanto lontane si si adesso arrivo, signoro non si preoccupi arrivo subito da lei guarda miserica l'abbiamo sfondato eh adesso ci carichiamo con calma eh cavolo ha preso lo stesso, che dirglielo eh guardate questo è morto, adesso ci rimane di questo signore salve lei salta molto sa ed ecco qui, anche questa è fatta altri? a quanto pare no oh un santuario psi interessante ecco qua, anche questa è fatta ma da 58 ne abbiamo un sacco l'acqua dobbiamo andare grazie entra pure voto rifugio 8k bisogna riconoscerlo la toxanol sapeva come costruirli ah immagino cosa ho preso? bah wow salve cavoli ah sono cose belle queste per potenziarci l'arma al massimo questo poi ci guarderò mi ha preso tutto mi fa piacere insomma sì dove dobbiamo andare esattamente? di qua ok l'abbiamo fatta in una volata proprio una volata eccoci qua vai mi piace quando chi è che rompe le palle? no sono confuso ah no era questo salve eh sì bello bello guardate lì quanto gli spacchiamo il culo sa ve l'è stato un vero piacere uccidere sa eccoci qua sforacchiali tutti sì sì mi sto spaccando proprio in quattro dove salve? ecco il fucile a pompa è molto pomposo eccoci qua in questa andata salve andiamo pure di dove? cazzo dove andare? di qua ok mamma mia i livelli che facciamo proprio uno dietro l'altro salve eh vabbè l'ho mancato perfetto la fortezza adesso gli spacchiamo tutti quanti il culo ecco madonna quanti siamo soliti discorsi la vera libertà arriverà se unirai le tribù e salverai l'albero della vita ma ci sto provando non è che ci sto soffiando dentro eh oh cazzo vai vai spacca tutto spaccali tutti qualche vacca eh così ne la facciamo prima se no ci mettiamo tre ore perfetto troviamo le abilità usiamole insomma no ok vai perfetto ottimo eh sì 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 molto molto meglio così il potenziamento è stato di gran aiuto perfetto e questa è andata mettiamo pure dice che è impegnativo mi sembra così impegnativo insomma quella è una sprizza fuoco sì adesso devo fare qualcosa l'erba asciutta sembra facilmente infiammabile ti basta una scintilla per far divampare il fuoco ok altri questo potrebbe essere l'inizio della fine ecco tocchiamoci i verroni arde più luminoso della luce perfetto e siamo a posto ma quanti sono? ci sono parecchi eh questi sono di lamentardi che c'è ok scusi sa dovevo riusci di personale ma insomma ok questa è andata ah no non è andata invece dicevo che l'avevo ucciso e morici però insomma sì eh che cavolo ok vai 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 grande così mi sei piaciuto troppo vicino non spara vabbè non prende perfetto vai ottimo perfetto andiamo pure avanti spacchiamo tutto con l'arieto l'arieto sembra un'ottima soluzione per sfondare il cancello eh lo sfondiamo proprio con l'arieto vai scommetto che devi solo bussare e si aprirà eh sì è una bussatina fuori di testa proprio lieve lieve ecco qui di solito sono tre se non ricordo malo ecco qua i lutei aspirano costruire un ordine perfetto non curanti di quanti vengano sacrificati nel processo vogliono sottomettere le tribù convinti che il controllo sia l'unica via per garantire la pace ok non si aspettava che sarebbe andata così non esiste che si arrenda in seguito a delle minacce riconosce la forza di una buona argomentazione vedete ecco qua ce l'ha fatta senza dover combattere meno male dai il sifo rivale è sconfitto si si le solite cose dai si sempre lascia che sia tu a decidere il destino del sifo rivale perfetto un salto perché l'abbiamo già viste tre o quattro volte che non saranno ristabiliti l'ordine e la stabilità per poter sfidare il sifo rivale nella sua fortezza devi prima conquistare i suoi avamposti e indebolire a sufficienza la sua tribù perfetto così almeno abbiamo visto la zona nuova e che è l'ultima quella finale del gioco accidenti picciu picu sei bello bello lo sai a un certo punto farei anche qualcosa oppure riparai così ah beh il minciaco ciò che agilità che deve avere il tuo sifo è soddisfatto sei un pazzo resta oddio crede che la guerra che porti avanti sia basata sul principio del fine dice eh va forca non ho letto mezzo vabbè amen tanto sono tutte cose che ha sempre detto io volevo l'arma però grazie così almeno la vediamo lo sciuriken dei lutei oh interessante vediamo quanto potente è allora fatemi vedere c'è poi velocissimo 480 questa non sarà un'escursioncina si fa sul serio se è veloce potrei anche pensare di usarla va bene adesso vediamo un po' cosa possiamo fare che finalmente viene sbloccato capitale dei banditti sconfitti raccogli i messaggi eh c'è un po' di roba effettiva adesso li facciamo li selezioniamo così almeno li facciamo siamo a posto piano piano cercherò di far tutto magari mi teletrasporto qua che siamo più vicini così non ci dobbiamo fare 8000 km a piedi e siamo a posto vai corri benissimo abbiamo un nuovo livello benissimo no abbiamo il kufu che non ce n'è stato un cazzo per adesso e possiamo andare 200-200 siamo a due passi proprio così proviamo subito il nostro shuriken che vediamo come va se fosse abbastanza veloce interesserebbe parecchio ecco qui siamo arrivati campo tissele in vista con tanto di banditi eh infatti quello è il problema di basico insomma perfetto andiamo non è male se non fa un cazzo di danno c'è bisogno dirlo vabbè questa fa 300 questo qua vedete la nostra perché abbiamo anche le abilità per carità eh perfetto vai dobbiamo provare sbloccare l'abilità a due mani così almeno usiamo due pistole due cose chi è? eh ma sono sono cazzi da cacare adesso si bello bello sei andiamo faccio tanti danni eh perché non sono pochi ma loro sono toppi ok vai perfetto vai ottimo perfetto ottimo non vedo un cazzo non vedo eh ovviamente trovo a caricare radio centro benissimo questa abilità è fantastica cioè sono riuscito a ammazzare meglio il boss che questi qua se avete capito vabbè ce l'abbiamo fatta considerato quanto è buio non dovrebbe mancare molto all'alba se allora vediamo un po' di prendere il dovuto dovresti riuscire a farne buon uso vediamo cosa trovi di interessante un altro punto è nostro perfetto ottima che bel cappellino eh dovrebbe essere interessante vai solo materiali migliori eh già proprio di prima qualità vabbè ah ce n'è uno bello là però eh come ci arrivo io là così ovviamente me l'ha messo nel posto più stronzo che potessi metterla ok ah era un cuoco vabbè amen oh qui però è rosso eh poi ci guarderò allora vediamo un pochino cosa dobbiamo fare adesso un'altra crest che è qui vicina vai di qua la facciamo di filata di filata stiamo andando volando in questi ultimi episodi che ormai dovremmo essere ci devo andare ancora all'albero eh però dovremmo esserci quasi eh non mi vola ci volete fare eccoci qua 100 passi certo che il mondo è vasto vasto eh acqua non so se posso ruotarci dovrei riuscire a farcela teoria livello teorico sì ce l'abbiamo fatta perfetto questa è una ciuffa stazione potresti salire a bordo di un ciuff ciuff qui interessante vediamo un po' qui di sotto c'è qualcosa perché vedo che si illumina ok il problema è dove esattamente entro per il ciuffa ciuffa qua devo andare lì eh per carità però oh ah interessante dove cazzo è dove è andato lo sono perso ah è qua eh adesso gli spacchiamo il culo eh questo qua salve ciuff ciuff eh che cazzo oh la miserica ma lei è forte forte eh ma insomma non si fa così io cerco di ammazzarla e lei mi fa queste cose fatto perfetto andata cosa mi dà lui? che sia la questa e la cacca? era questa la cacca la collezione e mi ha dato anche oh interessante che cazzo c'era qua? non ho capito beh questa si che è interessante vediamo un po' certo che qua c'è tanto da fare so che ormai l'abbiamo fatto tante di quelle volte queste cose che si è diventato noioso oi cosa ditte? lo rischio nelle vicinanze perfetto allora adesso vediamo un po' è perché c'è troppa roba mamma mia quanta ce n'è non so come entrarci ci deve essere un modo per entrare di sotto però adesso volevo farla questa che è a cento passi da qua così almeno siamo a posto lo vediamo questo però non annoia a Harvey eh interessante eh no non l'ho fatta una caccata vai vai muori muori non ho tempo da perdere con te si 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 molto interessante adesso ammattiamo questo e siamo a posto perfetto sforacchiali tutti eh li sto sforacchiando non vedi mezzo l'ho più spinto la ricarica non me l'ho data vabbè perfetto grande ciao ciao eh si ciao ciao eh c'è troppo un altro qua si messo là salve lei è bello bello sa piedi a lungo eh no se gli continui a sparare così no ok allora stavo dicionando che da queste qua a due passi perfetto qui c'è qualcosa ma non so assolutamente come entrarvi ah c'è il buco oh bello questo mi piace ci serviva ci serviva questo e qua si apre vediamo un po' magari c'è qualcosa di buono questa non sarà un'escursioncina si fa sul serio ah capisco eccola qua ho sbagliato è così e così perfetto ce l'abbiamo fatta e anche questa è andata perfetto adesso le altre cose le prenderò adesso se no vi annoio veramente ah questo è proprio due passi cento passi vediamo un pochino cos'altro c'è spero non sia quello di sotto perché non so come accedervi e in effetti è di sotto di qua ok ho capito tutto ho capito tutto ho capito che sono nella merda ma chi è che mi sparo là oh ma da dentro com'è che lui può spararmi da dentro io non posso entrarci da fuori eh allora vediamo un po' se deve essere un'entrata che mi è sfuggito oh facciamo così ecco qua siamo a posto vediamo pure ok va benissimo perfettico scusi sa dove vuol dire un attimo allora stavamo dicendo dove dobbiamo andare qua abbiamo preso anche la chiave perfettico non vedo un cazzo non vedo vale solite cose vediamo un po' solite cose è questa che mi interessa arma corpo a corpo individuare e distrutto c'ha boia però questa fa molto di più fa al danno minimo fa di più ma al danno massimo no quindi lasciamo perdere anche perché l'ho potenziata tanto la mia era per quello difficile trovare di meglio ok siamo a po' oh salve ah me l'ha rimasto così ok possiamo andare a fare la prossima qua benissimo così almeno questa zona l'abbiamo esplorata cioè per il verso no però diciamo che le quest le abbiamo fatte qui c'è qualcosa non c'è un cazzo com'è esco c'è un modo per riuscire che mi sfugge mi forse da qua un punto più strontolo lo potevi mettere no è la cosa più brutta del gioco questa che non possiamo decidere noi dove mettere il fungo è una cosa orrenda proprio ok ce l'ho fatta e adesso andiamo a 100 metri e ci siamo andiamo un po' oh interessante le tracce che razza di raccogli messaggi la gente che transitava di qua aveva parecchie cose da dire a quanto pare è una bacchetta non c'è dubbio sei nei pressi di una ciuffermata i ciuffciuff venivano qui a riposare prima che finisse del tutto il carburante le strade vanno condivise i binari possono ospitare un solo ciuffciuff alla volta non fissarti sui binari e troverai tracce lasciate da ok seguiamo missione così siamo a posto così abbiamo fatto anche questa mamma mia lontano queste tracchie spero non sia qui dentro subito che fa un giro della malloschia eccola qua oh casso hai trovato la traccia fantastico bello vedere che certe cose hanno resistito al passare del tempo continua a tenere l'occhio aperto e troverai le fermate migliori e i percorsi più entusiasmanti ai vecchi tempi i viaggiatori li usavano in continuazione difficile da immaginare al giorno d'oggi la strada non finisce certo qui hai scoperto parecchio ma c'è un mondo intero destro già allora intanto ho visto che c'è qualcosa di interessante voglio intanto andarci adesso piano piano eh senta miseria vai perfetto almeno l'abilità ci aiuto in qualche modo perché se no perfetto qua c'è qualcosa di interessante non ci è voluto molto eh vai eccoci qua questo è un posto interessante perché c'è sempre tanta roba buona ecco quindi che dobbiamo fare la quest noi perfetto devo vedere se c'è qualcos'altro evidentemente sì vai ottimo vai qui c'è una roba leggendaria la oh c'è vai quanta roba c'è ho detto io che c'era qualcosa di buono qua eccoci qua vabbè questo facciamo così poi facciamo così facciamo così e siamo a posto ottico ah perché dovevo andare a fare forza di qua allora se no questo non lo facevo ah va lo sapevo benissimo vai ottimo e possiamo andare a fare quest principale secondaria ok di qua finisico vai perfetto abbiamo trovato un nuovo Tom anche lì non è male non è male perfetto ragazzi io direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video di tutto io vado vi invito come al solito adesso like e commentate se piacerebbe fammi sapere cosa hai pensato per la prossima ciao ciao